un momento importante anche in una situazione internazionale complicata una grande nostalgia del cavallo in che senso è perché io andavo a cavallo prima di diventare ministro davvero adesso non ho più tempo piano piano loro e i perseglieri e la polizia penitenziaria sono stati i momenti più emozionali la festa della nazione certo bellissimo grazie ministro